3 punti importanti, gara difficile molto, quella contro il Santaniello l'ha dimostrato anche il campo, però alla fine sono arrivati questi 3 punti davvero molto importanti per la polisportiva. Sì, anche perché è la prima volta che ci riesce di fare 3 partite consecutive, 3 vittorie, sapevamo che era difficile, ma oramai sono tutte uguali le partite, sono difficilissime perché è un camminato molto aperto ancora, sia per quanto riguarda le prime posizioni sia per quanto riguarda la retrocessione, quindi sarà difficilissimo anche domenica col Solofra, quindi ci aspettano 4 finali. Io ho detto a loro di pensare come se fosse ogni domenica o ogni sabato la finale dei playoff, perché ci siamo abituati a queste cose, quindi dobbiamo essere competitivi su questo, cioè giocarci sempre come se fosse l'ultima gara. Squadra che ha dimostrato anche una capacità di saper soffrire, soprattutto nella ripresa quando il Santaniello ha aumentato un po' la pressione e poi ho visto maggiore maturità anche nei minuti finali, che più volte in passato la polisportiva quando era con un solo gol di vantaggio ha rischiato tantissimo e in alcuni casi addirittura aveva poi subito delle vere e proprie beffe. Certo, proprio Santaniello insegna perché all'andata abbiamo preso gol al 96esimo, ma l'esperienza è questa, la squadra ha acquisito anche la mentalità giusta per questo campionato, quindi sapevamo che potremmo rischiare anche di pareggiarla perché non l'abbiamo chiusa, nel primo tempo abbiamo avuto pure qualche occasione abbastanza semplice, purtroppo l'abbiamo sbagliata. Il calcio insegna che se non stai attendo poi la prima occasione ti fanno gol, però ripeto siamo stati bravi perché l'abbiamo gestita bene anche non rischiando poi quasi nulla perché Spicuzza, a parte quella bellissima parata al primo tempo, poi davvero ha fatto un normale amministrazione. Adesso mancano quattro partite, oggi ha vinto anche la Sant'Omaso, domani ci saranno le altre partite, però in pochi punti ci sono praticamente cinque squadre, è tutto ancora aperto. Sì, ma lo dicevo prima, è un campionato molto equilibrato, quindi davvero si deciderà l'ultima giornata perché poi ci saranno gli scordi diretti che decideranno secondo me quello che sarà la vincitrice del campionato e quello che saranno le quattro che faranno i play-off. Noi dobbiamo, ripeto, farci trovare pronte ogni volta che giochiamo perché è la squadra che merita, perché abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva nonostante tanti vicissi ultimi che poi hanno avuto tutte le altre squadre perché non è che siamo solo noi che possiamo recriminare. Proprio perché, ripeto, il campionato è molto equilibrato sia davanti che dietro.